Buon ascolto e ben ritrovati con l'informazione su Alghè Televisio. Politica settimana decisiva nella maggioranza che governa il comune di Alghero. Gli assetti di giunta pare stiano minando la tenuta della coalizione di centrodestra. Udc da una parte, Forza Italia, Alleanza Nazionale e DCA dall'altra. Troppo pochi gli assessori per accontentare tutti e così il primo cittadino Marco Tedde si ritrova davanti la scelta di aumentare le deleghe per accontentare la nuova democrazia cristiana per le autonomie o correre il rischio di creare uno strappo ritirando una delega ai centristi di Casini. L'Udc infatti, dopo la rottura con Pauleso e Langella, gode di due posti in giunta a fronte di due consiglieri comunali e se a ciò si aggiunge anche la presidenza del Parco di Portoconte, i conti proprio non tornano a detta della coalizione. Tra oggi e domani è prevista una riunione di maggioranza.